Allora, come organizzo la mia agenda? Benissimo, siccome come mi insegna Enrico Florentino il business si fa quando tu individui le esigenze del cliente e le esigenze del cliente le individui quando stai a parlare con il cliente, dico ai miei collaboratori, parlate con i clienti, incontrate i vostri clienti, prendetevi i vostri tempi, gestitela come vi pare, siete liberi professionisti, però dai ai clienti proprio bisogna incontrarli. Quindi ai miei ragazzi dico sempre qualunque scartoffi, incombenza burocratica, rottura di scatole, datele alle mie segretarie, le pago per questo, il benefit che avete dall'avere me come supervisore è che potete usufruire professionalmente delle mie segretarie e se avete un problema di tipo professionale chiedete e se ce l'ho una risposta ve la diamo, punto. Quindi dico sempre non disperdete, decidete il vostro raro di lavoro e là dentro incontrate i clienti, punto. Questo è come organizzo l'agenda dei ragazzi, ragazzi che sono tutti più grandi di me, quindi considera, credo in uno dei tuoi libri ho letto che un buon consulente deve essere, deve avere una buona preparazione tecnica, una buona preparazione relazionale e un ottimo spirito imprenditoriale. Beh, confermo. Ci vuole anche quel minimo, io dico sempre di aspetto empatico anche nei confronti dei propri collaboratori, perché anche se sono dei bancari miei, veramente strutturati, gente che raccoglie 10 milioni di euro l'anno, gente assolutamente in gamba. E poi noto che, proprio perché sono sempre stati dentro le filiali, non hanno sviluppato quelle doti commerciali, ma anche doti di ascolto nei confronti della clientela, che ogni tanto quando li affianco in certe trattative mi viene da impazzire, perché io sono uno di quelli che si è fatto il portafoglio da solo, quindi vedo questi bancarioni che si mettono davanti ai clienti che gli lanciano milioni di segnali di consulenza, milioni di esigenze e loro ne colgono l'1%. Gente che ti dice, io c'ho una moglie, c'ho una figlia disabile, c'ho un'azienda, c'ho tre figli, un'azienda la voglio lasciare al figlio A, so una rendita a mia moglie, un'altra rendita al figlio B e poi c'ho la figlia disabile che si è tutelata e loro ti dicono, eh, ma hai pensato di aprire un conto corrente con me? Dico, porca miseria, io ci sarebbe da lavorare per tre mesi e quindi va bene, quindi gliel'organizzo in questo modo l'agenda, cerco di essere con loro ogni tanto perché quando li seguo loro sono più contento.